benvenuti alla conferenza stampa dell'ICAS l'intergruppo cultura arte e sport e sono qui in qualità di fondatore per presentare un'iniziativa di charity di solidarietà e ovviamente di grande importanza perché a sfondo ovviamente di sostegno alla campagna per contro la violenza sulle donne e di presentazione di un calendario che è stato fatto ovviamente senza scopo di lucro come tutte le iniziative che presentiamo qui alla camera e dal nome molto suggestivo è anche bello perché ispirato alla luna e quindi all'aspetto femminile e anche dell'astrologia il lunario giuridico ius femmina 2023 che è giunto alla sua tredicesima edizione rappresenta appunto un prezioso traguardo tra professionisti giovani studenti che appunto ci verrà presentato dall'associazione ius disputando e ius gustando che nasce nel 1999 per cui ringrazio appunto per il convolgimento e per l'iniziativa bellissima l'avvocato Antonella Sotira che con fare un applauso che con la sinergia tra i soci fondatori gli avvocati magistrati le istituzioni università hanno visto realizzarsi tantissimi progetti di formazione giuridica e proprio per la tutela e la promozione dei valori della legalità e della solidarietà sociale. Io adesso lascio la parola all'avvocato Sotira che presenterà tutta l'operazione, operazione importantissima e ricordo che proprio in questa legge di bilancio il piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne è stato rifinanziato con 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni all'anno a partire dal 2024. Quindi sia il governo sia la maggioranza ma l'intergruppo è trasversale ovviamente a tutti i gruppi politici ed è il bello di questa iniziativa che sia appunto al di là di ogni appartenenza perché tutti vogliamo contrastare la violenza sulle donne e grazie a questa iniziativa ci sarà un'opera di grande sensibilizzazione e di grande mobilitazione. Lascio appunto la parola all'avvocato Sotira. Grazie. Iniziare il nuovo anno con la presentazione del Lunario Ius Femina 2023 che come ha ricordato il presidente Mollicone è giunto alla sua tredicesima edizione è davvero un buon auspicio per tutti noi qui presenti. Uniti non solo per combattere la violenza di genere ma nella consapevolezza di essere cittadini di un paese la cui civiltà si misura dalle tutele e dai diritti che vengono riconosciute alle donne e dai soggetti fragili. L'associazione fra avvocati e magistrati Ius Gustando e Ius Disputando simposi giuridici che ho fondato nel 1999 è oggi qui presente in quella che nella sua storia abbiamo con noi la nostra madrina Ius Gustando, Matilde Brandi che ci segue sin dall'inizio e ha partecipato a tutte le nostre iniziative di formazione della legalità e da 10 anni, da 13 anni presta il volto per l'immagine del calendario antiviolenza. C'è con noi il fotografo Domenico Chiriano, socio onorario dal 2007, colgo l'occasione anche di salutare sua moglie, il magistrato Letizia Golfieri, nostro socio onorario che ci ha accompagnato, ha immortalato non solo gli scatti del calendario ma le immagini di tutte le nostre iniziative e soprattutto quelle delle lunghe notti della legalità organizzate con l'Associazione Nazionale Magistrati e con il MIUR. Cerco noi la nostra socio onoraria Saveria Mobrici, unica donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera Penale e Militare di Roma, attuale consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma che insieme a noi ha condotto tante battaglie giuridiche. Poi c'è il socio onorario Francesco Greco, Presidente del CAF CISAL che oggi anche nella sua veste non solo di amico ma di sostenitore sponsor del calendario e grazie a lui è stato stampato e grazie anche al talento grafico della tipografia romano di Tropea. E ad accoglierci e sostenerci quest'anno, the last but not the least, l'onorevole Federico Mollicone. Mi ringrazio di cuore, con Federico avevamo già condiviso il progetto Usarte Libri, il ponte della legalità in sinergia con la fondazione del premio Bancarella e ci eravamo già conosciuti nel bellissimo complesso Valdina della Camera e spero che anche quest'anno, grazie a Federico, potremo avvalerci di questa prestigiosa sede per presentare anche i nostri libri che ci aiutano a promuovere una cultura della legalità. Abbiamo scelto in questi anni di combattere anche fuori dalle aule giudiziarie e in questi 23 anni di attività abbiamo avviato una vera e propria opera di contaminazione culturale per sensibilizzare ogni cittadino ed indurlo ad assumere una posizione di garanzia e custodia dei soggetti più fragili. La fragilità non conosce distinzione di sesso e trasforma chiunque di noi a seconda delle circostanze in vittima o in carnefice. Siamo tutti chiamati a declinare quindi una grammatica dei segnali e dei toni della violenza, per questo accanto ai volti di chi ha posato per il calendario e insieme a questi volti c'è il volto, ci ha messo la faccia anche l'onorevole Mollicone, abbiamo indicato i segnali d'allarme della violenza utili a riconoscere la necessità di intervenire o di chiedere aiuto. Matilde Brandi e di tanti professionisti ritratti senza rinunciare a dolcezza, leziosità e vanità nelle pose hanno posato seguendo un filo di lana rossa, ossia tessendo le reti di un impegno civico forte e consapevole tra uomini e donne di valore. Gli scatti realizzati da Domenico Chiriano con la direzione artistica di Gio di Sarno sono partiti dall'analisi delle nostre pose spontanee e delle nostre foto da bambini. Le foto dell'infanzia rivelano espressioni ed inclinazioni perché è nell'infanzia che scopriamo regole e valori e la lotta alla violenza non conosce limiti di età, è in quella fase che occorre agire e in cui bisogna educare per insegnare ai giovani a scegliere la direzione in cui crescere e rispettare gli altri. In questo calendario per la prima volta hanno posato tantissimi uomini ma soprattutto tantissimi genitori. Colgo l'occasione di ringraziare l'avvocato Andrea Mitresi che con suo figlio Tommaso sono giunti addirittura da Pistoia e anche oggi sono qui a testimoniare doppiamente il loro impegno per posare insieme. Il lunario ius femmine è destinato ad una raccolta fondi e un'attività di charity appunto per sostenere le cure mediche di Maria Antonietta Rossitani. Maria Antonietta nel marzo del 2019 è stata aggredita dal suo ex marito che ha tentato di ucciderla cospargendola di benzina e dandole fuoco. Dopo ben 220 interventi chirurgici Maria Antonietta sta piano piano giuarendo ma il percorso per riacquistare la femminilità e la sua bellezza è ancora molto lungo e ha bisogno del nostro aiuto. Si collegherà con noi il socio onorario iusugustando avvocato Alessandro Elia consigliere dell'ordine degli avvocati di Reggio Calabria difensore di Maria Antonietta il quale evidenzerà il particolare successo giuridico del processo Rossitani dove la giustizia ha riconosciuto e condannato l'ex marito per il grave reato di tentato omicidio non per quello meno grave di lesioni perustioni. Auspichiamo che il numero delle vittime di violenza diminuisca e che i soggetti incline alla violenza scelgano di farsi assistere e curare. Abbiamo il dovere di occuparci anche dei carnefici e soprattutto degli orfani di femminicidio. Rivolgo infatti un saluto alle colleghe dell'associazione donne giuriste Emanuela Mirabelli e Raffaella De Camelis che hanno posato con noi insieme anche alla segretaria della sezione di Roma Barbara Stanchi che insieme a me si occupano anche di questa tematica ossia dell'accoglienza degli offeni di femminicidio. Dopo 13 anni il progetto Just Femina diventa un format tv e ringrazio qui la qui presente Cristina Marquez titolare del Calare Scali e Explorer. Proietteremo in anteprima stasera con le interviste di tutti coloro che hanno posato per il calendario e che hanno storie di violenza o di salvezza da rivelare. Quindi oggi qui in questa prestigiosa sede che è il simbolo della Repubblica e delle vittorie della nostra democrazia diamo vita e sostanza ad una vera e propria eterotopia di civiltà e giustizia sociale. Se l'utopia è il segno di una società diversa e migliore in un futuro indeterminato l'eterotopia è la realizzazione di questi sogni di perfezionamento e miglioramento. L'auspicio è che il 2023 sia ricco di questi e di tanti altri sogni concreti di perfezionamento. Il mio personale augurio come cristiana cattolica è che il 2023 sia ricco soprattutto di amore perché è nell'amore per gli altri che si declina la pace, la legalità e la giustizia sociale e persino la funzione politica. Quindi auguro anche all'onorevole Mollicone tanto amore nella sua vita sentimentale, personale ma soprattutto anche nella sua vita pubblica. Buon 2023 a tutti. Grazie davvero per questo bel intervento e che ha spiegato anche il senso di solidarietà dell'iniziativa. Io adesso lascerei la parola all'Avvocato Savera Mobrici, Presidente della Camera Penale Militare di Roma. Prego. Vi invito a guardare in camera così per lo streaming e per chi guarda. Intanto grazie a tutti i presenti e grazie soprattutto lo devo dire in maniera particolare alla collega ma soprattutto amica Antonella Sotira perché la sua perseveranza, la sua eleganza e il suo savoir faire ha permesso dopo tantissimi anni ancora di tenere alto questo concetto che leggo soprattutto dietro al calendario, il diritto di essere donna. Il diritto di essere donna è divenuto ormai quasi un momento essenziale non solo della giornata ma soprattutto nelle funzioni di essere donna nel quotidiano. Qui c'è una grandissima differenza di manifestazione di quello che noi vogliamo essere. Mi permetto di dire noi vogliamo essere perché soprattutto sono donna. Sono avvocato, ho una certa età di professionalità oltre che anagrafica e io so cosa vuol dire essere donna perché quando ho iniziato la professione soprattutto di avvocato penalista in realtà donne ce n'erano pochissime e la fatica si doveva raddoppiare nelle aule. Ma perché porto questo esempio? Perché si è dovuto conquistare il rispetto ma non solo quel rispetto cosiddetto della buona educazione ma il rispetto di quel essere donna ad esempio nella professionalità, nella società e soprattutto essere donna del rispetto che dobbiamo darci prima tra noi donne perché che perché se c'è quella solidarietà molto primente molto lo dico quasi con certezza siamo vincente rispetto a quella aggressione che invece c'è e c'è tuttora ma non dico solamente quell'aggressione che purtroppo porta a delle ma come ha detto l'avvocato Antonella Sottira che oggi facciamo questa raccolta per sostenere purtroppo quell'episodio saliente e diciamo sofferente da parte della vittima ma soprattutto se noi siamo unite riusciamo a contenere la violenza e il mancato rispetto in genere di tutti quanti. Perché abbiamo ancora questa difficoltà? perché non siamo state brave nella comunicazione perché ci trovano separate e nella comunicazione si insinua quasi il diritto di fare violenza. Lo vedo nella televisione, lo vedo nei film, lo vedo in quasi tutti i momenti salienti diciamo della cosiddetta comunicazione banale anche l'aggressione verbale è permessa proprio perché non riusciamo a volte fare quella barriera. Allora io ringrazio oggi l'onorevole l'avvocato Sottira che ripeto ha quella perseveranza di mantenere sempre alto questo concetto. noi esistiamo non solo perché dobbiamo avere qualche funzione così ma noi esistiamo perché siamo in momento saliente di una società che va sempre a crescere e va sempre a crescere con l'apporto lo vediamo anche oggi nel nostro governo eccetera della donna. La donna ha quel qualcosa in più di naturale che riviene proprio dalla sua nascita io ritengo quel coraggio innato che molto probabilmente la porta vittoriosa se sappiamo essere uniti e questa unione la troviamo invece proprio attraverso anche gli uomini che sono con noi intelligente nel muovere certe funzioni della società e soprattutto nel non più utilizzarci come quella quota rossa rosa che in realtà non serve più. Quella quota rosa non non è più utile perché noi siamo vicente e facciamo parte ormai di una buona organizzazione di idee e di modalità di pensiero. A voi vi auguro un buon anno ma auguro veramente a tutti. Raccolgo quel concetto che ha fatto bellissimo sempre la nostra e carissima amica Sottiera quel volersi bene io ritengo che la cosa migliore è il dono se noi abbiamo ognuno di noi ha un dono e quel dono lo diamo agli altri vuol dire che faremo una catena di amore e di solidarietà questo vi auguro per il 2023 solidarietà 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 grazie all'avvocato Mobrici per le sue belle parole sono molto d'accordo in particolare sulla questione delle quota rosa è importante appunto dare quella pari dignità alle donne in tutti gli ambiti senza riservare delle quote cioè nel senso ma per merito perché appunto le donne se lo meritano e molto spesso molto più degli uomini. Lascio ora la parola alla Francesco Greco presidente del CAF CIS al servizio e direttivo Ius Femina che è qui con noi prego grazie grazie onorevole grazie Antonella noi ormai da circa cinque anni mi sembra portiamo avanti questa collaborazione lo facciamo convintamente perché crediamo che il sindacato sia parte in causa di un problema che interessa tutti i cittadini e quindi noi come organizzazione sindacale che tutela i diritti dei lavoratori ci sentiamo anche di porre all'accento sul problema della violenza sulle donne che purtroppo nonostante numerosi provvedimenti anche legislativi ultima la legge 69 cosiddetta codice rosso non ha inciso più di tanto relativamente al contrasto delle donne quindi evidentemente il sistema repressivo da solo non basta secondo noi c'è bisogno di un doppio binario la parte repressiva va bene ma non ha funzionato mi pare che quest'anno siamo a 104 morti se non mi sbaglio quattro in più rispetto all'anno scorso nonostante l'incremento di pene di sistemi di contrasto dal punto di vista giuridico quindi noi siamo convinti che bisogna parlarne è più possibile soprattutto portare questo problema all'interno della scuola per educare i giovani al rispetto al rispetto della legalità al rispetto della persona perché il solo strumento giuridico non ha dimostrato il tempo nei fatti che non basta per cui bisogna mettere al centro l'uomo la sua parte emotiva la sua parte istintiva che va educata va incanalata verso il rispetto dell'essere umano in generale e in particolare verso la donna per questo Antonello io ti ringrazio ci sentiamo veramente coinvolti in questo tuo progetto e ti porto anche ringraziamente al segretario generale Francesco Cavallaro che convintamente anche lui sostiene questa causa e saremo sempre presenti al tuo fianco per qualsiasi iniziativa possa essere utile insomma a mettere in discussione quello che è il problema della violenza e della cultura della legalità in generale. Grazie a Francesco Greco passo ora la parola in collegamento da remoto e con noi come è stato annunciato l'avvocato Alessandro Elia consigliere dell'ordine di avvocati di Reggio Calabria e socio onorario di IUS e avvocato difensore ovviamente di Maria Antonietta Rositani prego avvocato. Buongiorno a tutti eh ringrazio ehm per l'opportunità concessami eh sono molto lieto di eh intervenire in questa sede eh ringrazio eh la eh l'associazione eh la IUS eh alla quale appartengo ringrazio la mia presidente l'avvocato Antonella Sotira che tanto si sta battendo e continuerà a farlo e a spalleggiarmi anche nella nella lotta eh nella la violenza contro le donne al fenomeno della violenza contro le donne e ringrazio anche l'onorevole Mollicone per avermi concesso questa opportunità. Ehm come eh aveva già accennato a Antonella Maria Antonietta il dodici marzo del duemila e diciannove è stata vittima eh della brutale violenza del marito. E per me eh affrontare questo processo è stato innanzitutto emotivamente estenuante perché la parte emotiva ha giocato un luogo fondamentale in questa vicenda e dal punto di vista eh tecnico giuridico è stato un eh processo eh complicato. Ehm sono consapevole eh che eh in tutte le vicende eh giudiziari in tutti i contenziosi sia civili che penali non si può mai parlare di vincitori e di vinti soprattutto nella eh nel caso di Maria Antonietta eh ma eh posso comunque eh affermare che l'iter processuale si è concluso con un esito favorevole e per nulla scontato. Eh l'imputato è stato eh condannato eh per tentato omicidio, condanna confermata anche in grado di appello ed è stato riconosciuto alla piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Questo non è ehm diciamo comune nei nelle nelle fatti specie simili a quella di Maria Antonietta perché sovente l'iter processuale si conclude come giustamente aveva già accennato l'avvocato Sotira si conclude con una sentenza di condanna per lesioni gravissime e talvolta anche con il riconoscimento di una incapacità parziale la mh tragedia di Maria Antonietta è stata una tragedia annunciata eh come questo fattore comune a tutti i casi di femminicidio e Maria Antonietta dalla ehm ha riportato delle ustioni profondissime sul quaranta quarantanove per cento della superficie corporea ed in particolare sono stati colpiti il viso eh il dorso le braccia le gambe è stata più volte in pericolo di vita ed è riuscito ad affrontarlo proprio per la forza e la volontà di vivere per l'amore per i propri figli che l'ha portata a superare questi momenti di difficoltà è stata sottoposta lo è tuttora e chissà per quanto tempo purtroppo dovrà esserlo sottoposta ad interventi di chirurgia plastica continui e ehm e anche periodici e ehm dico ehm che questa tragedia eh si poteva evitare ribadisco è un fattore comune a tutte eh diciamo le situazioni i casi giudiziari e i casi di femminicidio però in questo caso si sarebbe potuto evitare se solo ci fosse stato un pronto intervento e una maggiore coordinazione tra le forze dell'ordine il il l'ex marito di Maria Antonietta Rositani si trovava eh ristretto agli arresti domiciliari a Ercolano a seguito di una sentenza di primo grado confermata in grado di appello e poi di menù definitiva per maltrattamento in famiglia alle due di notte è evaso da Ercolano è arrivato in quattro ore con la vettura a Reggio Calabria ha riempito tre bottiglie eh da due litri di benzina si è appostato sotto casa di Maria Antonietta l'ha seguita per le vie della città l'ha speronata davanti a una scuola un istituto scolastico ha dapprima eh bruciato incendiato l'autovettura dopo averla cosparsa di benzina e successi con dentro Maria Antonietta e nel momento in cui Maria Antonietta è riuscita a trovare una via di fuga ha eh versato del liquido infiammabile e dato fuoco direttamente alla persona perché ho detto che poteva essere evitabile perché Maria Antonietta ha ricevuto la eh è stata avvisata e allertata della fuga dal marito dal proprio padre e a sua volta immediatamente quindi subito dopo le otto ha allertato il centotredici avvisandoli della fuga e chiedendo lumi su cosa fare dove andare come muoversi e come trovare protezione perché temeva per la propria incolumità la cosa più agghiacciante è che alle otto e trentasette sono orari non che so a memoria ripetuto ma perché mi sono rimasti dentro Maria Antonietta si trovava in contatto con l'operatore telefonico e nella nella registrazione si sente aiuto aiuto mi sta bruciando bene alla luce di questa di questa triste vicenda ehm mi sono proposto quale consigliere nella mia qualità di consigliere dell'ordine degli avvocati di Reggio Calabria di lavorare e e proporre la sottoscrizione di un protocollo che preveda uno scambio di informazioni e di comunicazioni dirette tra le forze dell'ordine e l'avvocato difensore della vittima sin dal primo momento sin dalla prima delizia bene ehm ci sono stati interventi legislativi in questi ultimi anni che pur sere incisivi se non sono riuscite ad arginare il fenomeno della violenza contro le donne che sicuramente ehm e trova la sua radice in un fatto in un fattore culturale che eh è difficile da debellare ma non impossibile tuttavia io ritengo che eh sia necessario rafforzare la prevenzione del reato e puntare sulla preparazione non solo dei magistrati ma di tutti coloro che entrano in contatto con le vittime al fine di di evitare tragedie come quella di Maria Antonietta e di tante altre donne eh concludo eh facendo i miei auguri eh di buon anno a tutti voi ed in particolare alle donne eh che sono state vittime di violenza in tutti questi anni con l'augurio e e con eh la speranza che possono trovare la forza per uscire fuori da eh questo eh da questo vortice di violenza e che qui ricadono quotidianamente. Grazie a tutti per la scuola. Ringrazio l'avvocato Alessandro Elia anche per appunto la ricostruzione drammatica ma necessaria eh dell'accaduto e proprio dell'accaduto a Maria Antonietta Rositani della vittima eh una delle tante donne vittima di grave violenza quando appunto non di femminicidio e ricordiamo appunto della raccolta fondi Just Femina 23 sarà devoluta proprio a Maria Antonietta Rositani vittima di questa terribile violenza. Ehm ora passo la parola a una persona che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e che ha prestato la sua immagine eh proprio per rafforzare questa campagna contro la violenza sulle donne parlo ovviamente di Matilde Brandi attrice e testimone a rispegnare. Grazie onorevole ehm veramente agghiacciante il racconto di quello che ha subito Maria Antonietta e siamo qui affinché queste cose non accadano più. Intanto io voglio ringraziare Antonella Sotira perché siamo veramente amiche e sorelle ehm io sono la madrina dell'associazione Sgustando Simposi Giuridici fondata dal duemila otto quindi eh sono sempre stata lieta di eh di onorata di aderire alle tante iniziative giuridiche e ai tanti eventi benefici che Antonella ogni anno fa eh e non solo perché sono un personaggio pubblico ma perché sono una cittadina una donna soprattutto una madre una lavoratrice del mondo dello spettacolo eh ma anche io sono eh come tutti eh titolare di diritti ma anche soprattutto di doveri. Eh quando tantissimi anni fa Antonella mi ha proposto di posare anche per la copertina del calendario antiviolenza io mi sono resa conto eh che avevo il dovere come donna di sensibilizzare l'attenzione pubblica e di aiutare eh le vittime soprattutto a trovare il coraggio di denunciare di farsi proteggere sostenere assistere dalla rete di professionisti che fanno capo all'associazione. Eh in tutte le edizioni del calendario ci sono tante mie pose di tante altre donne che insomma vogliono esaltare la bellezza la nostra bellezza e vanità abbiamo diritto no? Eh appunto perché è proprio il primo diritto a rivendicarlo come persona non solo come donne ma quello di essere amate rispettate per quello che siamo io questa mattina ho detto mi voglio mettere un bel rossetto rosso e l'ho messo anche lo smalto rosso una bella camicia rossa ok e abbiamo scelto questa posa non so dopo la facciamo vedere con il gomitolo col filo rosso eh perché quel filo unisce me e tutte le persone eh alle istituzioni alla politica e a tal proposito io veramente vorrei fare un applauso all'onorevole Federico Mollicone che è stato stupendo e ha posato anche con noi soprattutto. Soprattutto che abbiamo scelto anche una cosa molto semminile bella sì bellissima perché comunque anche gli uomini hanno diritto a curare la propria immagine gli specchi la bellezza quindi esatto gli specchi ora la facciamo vedere e quindi niente io spero insomma di essere utile per far acquistare a molti il calendario e sia per far leggere anche i segnali di violenza che ahimè purtroppo continuano ad aumentare bisogna forse impegnarci ancora di più prima si parlava di impegno proprio nelle scuole nelle scuole ma proprio nelle dalle alimentari quando sono piccoli eh lottiamo per questo perché i bambini devono esatto devono assoluto assolutamente sì viva le donne basta violenza grazie allora penso che possiamo andare a concludere e grazie davvero a Ius Femmina 2023 sosteniamo la battaglia e la campagna eh contro la violenza sulle donne con questa bella iniziativa iniziativa e grazie davvero a tutti e un saluto dalla camera dei deputati ringraziando anche ovviamente gli assistenti parlamentari per il loro quotidiano lavoro che ci permette appunto di fare iniziative come questa io scusate mi avrei una richiesta da fare all'onorevole mollicone che è quella di provvedere lui a consegnare ufficialmente al nostro presidente il consiglio questo calendario anche perché è una donna e sappiamo tutti che è molto attenta anche a queste battaglie di grande civiltà sarà fatto sicuramente grazie ancora grazie a tutti per essere qui grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.